Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. E già a Genova per le visite mediche il gioiennino del Pescara Marco Delemona che è passato alla Sampdoria a titolo definitivo per circa un milione e mezzo di euro, bonus compresi, ma che rimarrà a Pescara per quest'anno come richiesto espressamente dalla società adriatica che ha posto questa pregiudiziale per il trasferimento in blu cerchiato del fantasista classe 2005 che in precampionato ha già confermato il suo talento dopo aver giocato lo scorso anno sette gare con il Pescara in C. Ancora qualche giorno di attesa invece per l'arrivo di Andrea Ghion che il Perugia libererà in modo da concedere al Sassuolo la possibilità di girarlo al Pescara in prestito biennale con Colombo pronto a impiegare il centrocampista nel 4-3-1-2 provato anche ieri nell'amichevole di Pianella vinta dal Pescara per 9-0 ancora correti del tandem Cuppone-Lescano sempre in gol finora. In arrivo in settimana anche l'altro centrocampista Salvatore Aloi che arriverà con prestito con diritto di riscatto dal Lavellino. Tutto già fatto invece per il centrocampista albanese Erdis Kraja che in biancazzurro arriva in prestito secco dall'Atalanta. Ufficializzato anche il difensore Mattia Bomen in prestito dalla Ternana. Il 28 agosto il via il campionato e il 21 la Coppa Italia mentre domenica il Pescara sarà impegnato nel torneo di Pineto con la locale formazione e con lo spoltore.